Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Sono io che ringrazio te Fabio. Grazie. Grazie.